Lo schema è sempre lo stesso. La telefonata del finto nipote alla nonna ignara di tutto, che cede con tanti gioielli e malfattori, credendo di riuscire a togliere dai guai il proprio parente. È accaduto ancora una volta a Pescara, lo scorso 22 marzo, con le stesse modalità che si ripetono in molte truffe ai danni degli anziani. Ma questa volta i malfattori sono stati fermati dagli agenti della squadra mobile di Pescara, che hanno tratto in arresto due campani di 29 e 36 anni che con l'inganno della telefonata hanno sottratto monili in oro e preziosi a un 83enne residente nel centro cittadino. Un copione che si ripete, come spiega il Tg8 Gianluca Di Frischia, capo della squadra mobile di Pescara. Nell'ambito del servizio quotidiano di pattuglie antitruffi e antirapina, anche sugli sviluppi di attività che ormai si protrae da alcuni mesi a livello generalizzato, siamo riusciti a individuare una macchina che ci è apparsa subito sospetta, per cui l'abbiamo fermata ed eseguito un controllo rinvenendo subito dell'oro nascosto in un fazzoletto occultato in un vano dell'auto. Era subito evidente che l'oro non fosse di proprietà dei due occupanti della macchina, che erano due persone in trasferta arrivate da fuori regione e siamo risaliti ad una truffa subita da una signora di 83 anni residente a Pescara. Le modalità sono quelle che si possono dire ormai consuete, nel senso che è un modus operandi che si sta ripetendo, ovvero quello della telefonata del nipote in difficoltà che ha bisogno urgente di denaro. In assenza di denaro vengono presi i preziosi, tra cui anche ricordi di famiglia, fedi nusiali e quanto in possesso della signora, comunque della vittima, che in quel momento si trova in casa. Contestualmente si cerca di allontanare eventuali parenti o persone di fiducia che vengono impegnate in altre telefonate o comunque inviate ad esempio in uffici postali, come è accaduto anche a febbraio in occasione dell'altro arresto in flagranza che abbiamo effettuato con le stesse identiche modalità. Abbiamo trovato altri due gioielli che non sono stati riconosciuti dalla signora, per cui tutti i gioielli della signora sono stati immediatamente restituiti, gli altri due sono stati sottoposti a sequestro perché non è stata accertata la provenienza, ma essendo gioielli da donna difficilmente riteniamo che fossero di proprietà di alcuno dei due occupanti dell'auto. L'arresto dei due giovani per truffa aggravata è stato convalidato nella giornata di ieri. A carico di entrambi, il questore ha anche firmato il foglio di via che vieta i due di entrare nel comune di Pescara per i prossimi tre anni.